buon senso perché che lui dica che le misure sono prese per contenere la pandemia non sembra perché non sembra ci sia una razza, non si capisce perché il coprifuoco, perché si devono limitare le libertà degli individui dalle 10 di sera in poi. Se io ho il diabete e voglio andarmi a fare una passeggiata a mezzanotte perché chi ha il diabete deve camminare, perché non lo posso fare, che cosa ci azzecca con il virus. Gli italiani hanno dimostrato in tutti questi 14 mesi di essere delle persone meravigliose perché hanno seguito tutto ciò che veniva dato prima in quella frase di emergenza e poi se ci sono delle misure di buon senso. Le faccio solo un esempio, mi dovrebbero spiegare perché e non ho nulla contro le tabaccherie sono state aperte sempre e di solito una tabaccheria e 30 metri quadri dove entrava le persone. Perché il negozio a fianco di 200 metri quadri di abbigliamento ha dovuto chiudere? Allora io credo che siamo arrivati a un punto dopo 14 mesi e ripeto siamo messi peggio adesso che un anno fa perché l'anno scorso il 18 maggio i ristoranti erano aperti a pranzo e a cena anche all'interno. Oggi con la campagna vaccinale contro lo studio che si è fatto e quindi con le evidenze scientifiche che hanno dimostrato che i cluster sono nel trasporto pubblico, il problema delle scuole che non hanno fatto niente per mandare i ragazzi a scuola in sicurezza. Allora letta le sue parole e sono contro il buon senso perché non c'è più nessun motivo di limitare la libertà. Non perché non ci sia il virus, sia ben chiaro. Noi diciamo anche restrizioni più severe, controlli più severi ma tutto questo deve essere fatto per contenere la pandemia. Invece non ci sembra assolutamente che questo venga fatto. Salvini è al governo e si è reso conto purtroppo che i numeri in politica fanno la differenza, che questo è un governo a trazione giallo-rossa perché comunque i voti poi in Parlamento la maggioranza ce l'ha sia i grillini e il Partito Democratico. Io sono felice, noi siamo felici che Salvini la pensi come noi sul coprifuoco e su tantissime altre cose che non ci azzeccano con il contenimento della pandemia. Per cui siamo contenti che anche lui la pensi come noi, dall'altra parte ahimè sta in un governo dove la sua azione non può essere così incisiva proprio per una questione di numeri perché non è tanto il governo e il Parlamento che poi i numeri Salvini non li trova. Allora, Fassina